Benvenuti in un nuovo video della serie Facciamo Torte. Oggi andiamo a realizzare una torta base yogurt e marmellata utilizzando il forno a microonde. Per chi non lo sapesse mi chiamo Nunzio ed in questo canale cuciniamo, assaggiiamo e mangiamo. Iniziamo subito con la preparazione di oggi. Come prima cosa prepariamo la nostra teglia in silicone adatta per la cottura in forno a microonde con un po' d'olio e farina. Quindi, un po' d'olio. Che distribuiamo in tutta la superficie aiutandoci con un tovoiolo di carta. Fatto questo mettiamo la farina. Che distribuiamo in tutta la superficie. Teglia in silicone pronta, la mettiamo da parte. Prendiamo in una ciotola i nostri ingredienti ed iniziamo con la preparazione vera e propria del nostro dolce. Quindi, mettiamo all'interno le uova. Seguite dallo zucchero. E diamo una prima mescolata. Aggiungiamo lo yogurt. Aiutandoci con un setaccio, aggiungiamo la farina. Seguita dal lievito vanigliato. Leggera mescolata con lo sbattitore. Seguita dalla mescolata che va dal basso verso l'alto. Riprendiamo la nostra teglia in silicone e la ricopriamo fino a metà, ricordandoci che nel forno a microonde questa raddoppierà la sua dimensione. Facciamo questo movimento così che si distribuisca in tutta la superficie. Spostiamo nel piatto il nostro microonde. Tempo di cottura 7 minuti e mezzo a 700 pov. Andiamo in il nostro vassoio con carta forno. Usciamo la nostra torta dalla forma. Mettiamo da parte e facciamo raffreddare. Ripetiamo il procedimento con la parte restante dell'impasto. Trascorsi 7 minuti e mezzo, togliamo anche questa dalla forma. E lasciamo raffreddare. La base della torta è pronta. Prendiamo il nostro piatto alla portata ed assembliamo il nostro dolce. Quindi mettiamo la prima parte sottosopra nel piatto. Andiamo a farcire con una marmellata di ciliegie. Che copriamo con la seconda parte della torta. Ricopriamo con un leggero strato di zucchero a velo. E per dare una nota di colore prendiamo un bicchierino. Lo ricopriamo di carta stagnola. Inseriamo al centro della nostra torta. Che andiamo a coprire con delle ciliegie caramellate. Alla nostra torta cucinata al microonde con yogurt e marmellata di ciliegie. E' pronta. E adesso ti invito a iscriverti per altri video. Noi andiamo a mandarci la torta. Alla nostra torta. Grazie.